Dopo un troppo lungo intervallo l'IMES torna in Sud America, in Venezuela, un importante stato sudamericano che è appunto collocato tra i Caraibi e l'Amazonia e che oggi è oggetto di una contesa di potere fra il presidente in carica Maduro e il suo sfidante Guaidò. I due leader rappresentano due schieramenti contrapposti, con al centro una spaccatura di ordine sia politico-ideologico che raziale, rappresentando Guaidò soprattutto la parte bianca del paese e invece il presidente in carica Maduro, rappresentando la parte meticcia e colorata. Questo evidentemente rende ancora più difficile la composizione di un conflitto già difficilmente sanabile, anche perché in questa vicenda sono coinvolte tutte le principali potenze mondiali, a cominciare dagli Stati Uniti d'America che considerano quel paese cardine del sistema hemisferico occidentale, di cui si sono intitolati il dominio attraverso la famosa dottrina Monroe, cioè sostanzialmente nelle Americhe non devono entrare potenze altrui. Invece ci sono entrate e in particolare in Venezuela sono entrati i russi e i cinesi, attratti sia dal petrolio e quindi anche dalle risorse che fino a qualche anno fa il governo venezuelano poteva utilizzare per esempio per comprare armi russe e poi anche dal gusto di sfidare gli americani sul loro continente. Come sappiamo il Venezuela è stato uno storico alleato di Cuba e oggi anche nelle diverse condizioni certamente i due paesi sono molto vicini, tanto che a Caracas, in Venezuela, è presente una comunità cubana composta essenzialmente da militari e uomini dell'intelligence. Quindi è una partita ancora del tutto aperta in cui il tentativo di rovesciare Maduro è fallito soprattutto per la resistenza dei militari fedeli al presidente in carica. C'è poi da sottolineare la forte radice italiana di questo paese, segnalata d'altronde anche dal suo nome e gli italiani in questa partita stanno essenzialmente per Guaidò, per lo sfidante.